Mariano De Ida è il compositore noto per aver messo in musica molti testi letterari di Fernando Pessoa. Adesso si fa promotore di un gemellaggio culturale tra l'autore portoghese e Luigi Pirandello nel 150esimo della nascita. Il compositore Mariano De Ida che mette in musica le parole del poeta portoghese Fernando Pessoa. Il ritratto Mariano De Ida canta Pessoa. Anche se non sempre le arti vengono riconosciute ed apprezzate. Perché aiutano a pensare cantando. In questo viaggio Mariano De Ida si accompagna ad artisti raffinati come Ivan Segreto, Carlo Scareca e Mafalda Arnault, la nuova moderna voce del fado. Mariano De Ida, definito l'ambasciatore del portogallo in Italia, è l'artista conosciuto per aver musicato e cantato i versi e le parole di Fernando Pessoa. Le parole di un grande poeta, Fernando Pessoa, per le canzoni di Mariano De Ida, musicista originale. Emozioni, profumi, sensazioni e visioni con le parole di Grazia dell'Edda e con la musica e la voce di Mariano De Ida. Buongiorno e bentornati a TG2 Costume e Società. Ci affidiamo ad un artista italiano che vive qui molti mesi l'anno, Mariano De Ida, un cantante e un musicista sardo. Non può lasciare indifferente Mariano De Ida, il compositore sardo che da anni mette in musica i versi di questo straordinario autore, il suo preferito. Il cantapoeta lo hanno definito così, dopo aver dedicato le sue note e i suoi pensieri a Grazia dell'Edda e a Cesare Pavese, De Ida torna al suo primo grande amore. Le piante del lago, ti hanno vista un mattino. I versi Cesare Pavese, cantati da Mariano De Ida, il compositore che mette in musica i testi di autori letterari. Un concerto che mescola le atmosfere del jazz, musica d'autore e musica da camera. Il concerto del cantapoeta Mariano De Ida. Dal teatro Butera Branciforti, di Bagheria, presenta Mariano De Ida. Viola divino. È exatamente come musica di jazz che Mariano De Ida gravò questo lavoro che ho molto gusto di mostrare. Mariano De Ida ha un nuovo disco dedicato a Fernando Pessoa, musica italiana, ha omeggiato un poeta con jazz. Precisa continuare a far conoscere la parola di Fernando Pessoa al mondo. L'italiano Mariano De Ida. Buona notte. È un disco, è un'esame. Tra i primi a esibirsi in occasione dei 125 anni della nascita di Pessoa, anche 100 bambini delle scuole elementari guidati da Mariano De Ida, il compositore italiano che mette in musica le opere dello scrittore portoghese. Ho il piacere di presentarvi Mariano De Ida.